DNA vincente e primato in classifica anche nella nuova dimensione calcistica. Proponzione o eccellenza non fa alcuna differenza per il Gravina, che vince anche a Grottaglie, colleziona la terza vittoria consecutiva e guida in classifica in condominio con il Casarano, avversario proprio dei Murgiani nel big match di domenica prossima. Espugnato con una prestazione autorevole e convincente, l'atletico Damuri, punteggio finale 2-1 in favore della formazione allenata da Di Maio. Il Gravina mette le cose in chiaro già dopo meno di un minuto, Gigi Rana, l'uomo più rappresentativo dei gialloblu, approfitta di un'indecisione difensiva dei Tarantini e rende la strada subito in discesa per gli ospiti, che non rinunciano mai a fare la partite, conservano costantemente il pallino del gioco, mettono in risalto una buona personalità e sfiorano il raddoppio intorno alla mezz'ora anche con lo scatenato Rana. Mira questa volta imprecisa. Il Grottaglie prova ad uscire dal guscio, ma le idee in fase di costruzione non sono brillantissime e le occasioni, quelle vere, latitano in attacco. Gravina in vantaggio all'intervallo. Ti aspetti la reazione dei padroni di casa, rientro dagli spogliatoi, ma i risultati non sono quelli sperati. Sono gli ospiti, anzi, che colpiscono una clamorosa traversa con una stoccata dalla distanza di Chiaradia. Per il gol del 2-0, tuttavia, è solo questione di minuti. Arriva a metà della seconda frazione e lo realizza Montemurro. Vittoria praticamente ipotecata, partita chiusa o quasi. La riapre a 12 minuti dal termine Salvi, bravo ad approfittare di un'indecisione difensiva degli ospiti. Il Grottaglie prova a completare la rimonta sino al termine, ma il Gravina resiste e porta a casa il doppio colpaccio. Vittoria è conferma della leadership in classifica. La matricola giallo-blu, insomma, continua a fare le cose sul serio, anche in un campionato difficile ed impegnativo come l'eccellenza.